Due appuntamenti di mezzo agosto con il Parco Nazionale della Val Grande. Di che cosa si tratta il primo nell'ambito di Sentieri e Pensieri? Il primo appuntamento il 19 agosto alle 21, Emanuele Biggi, conduttore di Geo & Geo, racconterà storie fantastiche di natura, quindi ci racconterà la meraviglia della natura. In quell'occasione in realtà il Parco Val Grande presenta anche l'Atlante, una importante per noi pubblicazione scientifica, che è l'Atlante degli uccelli del Parco. Invece il 25 agosto nell'ambito di un festival che nasce quest'anno per la prima volta, si chiama Una Festival, Uomo, Natura e Arte, e prevede il coinvolgimento di diversi soggetti, quindi il Parco Nazionale della Val Grande, il Parco del Monviso, il Parco delle Dolomiti Bellunesi, ed avrà il patrocinio di Uncem, CAI e quindi anche Federparchi, quindi di importanti soggetti istituzionali. Dicevo, il 25 agosto l'evento Clou si svolgerà nel Parco del Monviso quest'anno, ma noi avremo un evento importante il 25 agosto alla Cava del Duomo, quindi nella Cava di Candoglia, un concerto di musica classica con musicisti della Scala di Milano e un attore, quindi musica e recitazione. Torniamo sull'Atlante che ha un po' censito gli uccelli del parco. Ecco, c'è stata qualche bella scoperta, quanti uccelli sono stati censiti? Beh, allora, gli uccelli sono tantissimi, l'Atlante è voluminoso, infatti non potrà essere utilizzato per accompagnare le escursioni, però potrà essere consultato prima e ci consentirà di scoprire appunto gli uccelli che vivono nel parco e nelle zone rimitrove. Sono diverse centinaia le specie di uccelli che vivono nel parco, recentemente, per esempio, noi stiamo facendo, perché le attività di ricerca sono una delle attività principali, una ricerca sulle aquile che vivono e nidificano anche all'interno del parco.